Gonzalo Pires, intanto benvenuto a Manfredonia. Come ti sei trovato in questa squadra e che ambiente hai trovato? Mi sono trovato troppo bene, i ragazzi mi hanno ricevuto bene, si è stato tranquillo e contento. Dopo l'esordio a Napoli, oggi è una partita più leggera, quasi un allenamento, però a te è servito per conoscere meglio i compagni? Sì, questa è la prima partita mia nel campo, che giochiamo qua in casa, abbiamo deciso di fare i punti, per fortuna abbiamo fatto una gran partita, abbiamo fatto tutto quello che ha detto il mister e siamo contenti per quello. Gonzalo c'è un obiettivo che la società vuole raggiungere, fare il play-off che ha già fatto l'anno scorso e che vuole rifare quest'anno. Secondo te la squadra è pronta per questo appuntamento? Sì, sì, dobbiamo migliorare tanto, ma dobbiamo allenare come ogni settimana, fare un sacrificio e penso che sì, che se arriva possiamo fare il play-off. Qual è la posizione che predilige in campo? Laterale, dietro, avanti o sei un universale? Io preferisco giocare dal laterale.